ben ritrovati ben ritrovati a tutti buon lunedì oggi è il tredici giugno siamo arrivati già alla metà di giugno con obbligo di riscatto ciao Henry ciao buongiorno a tutti è il compleanno del mio miglior amico auguri così di di scioltezza oggi è il compleanno del tuo miglior amico e quindi lo salutiamo ciao miglior amico di Henry che è tifoso e non lasciamo stare e quindi non vedrà le ultime notizie di obbligo di riscatto sta per ricomprare Pogba diciamo così vabbè torniamo a parlare torniamo a noi caro Henry eh oggi siamo svegliati con due prime pagine con notizie riguardanti soprattutto eh due giocatori un trequartissimo esterno destro te non saresti mai aspettato? Sì. Sì? Sì ci può stare cioè sono quelli che cerchiamo di più. Ci spostiamo nel lato nell'angolino eccola la prima pagina di Gazzetta un Milan da dieci sul talento del Belgio Maldini avanti di tutti pronti 40 milioni avrà un ruolo da leader. Allora iniziamo a parlare appunto di di Charles che eh insomma l'abbiamo già detto un paio da un paio di di diretta questa parte è sicuramente un obiettivo del Milan il gradimento è assoluto 40 però ovviamente sono sono un po' tantini credo che il Milan si metterà a trattare e cercherà di nel caso portarlo a casa una cifra sicuramente inferiore ai 40 non che non valga i soldi che nel caso sarebbero spesi però non essendoci al momento una diciamo così una concorrenza incredibile mettere 40 per Decateler è tanto però sicuramente si andrà a trattare. Sì sicuramente si tratterà sicuramente Decateler è l'obiettivo numero uno l'abbiamo detto anche in obbligo di riscatto di sabato del Milan per per la tre quarti c'è da dire che come dicevi tu se non c'è una concorrenza spietata eh è ovvio che si possa si debba trattare le richieste sono sì di 40 milioni ma sappiamo bene che nel calcio di oggi a parte due o tre società tipo quello che ha fatto Real Madrid con Ciomini in questa sessione di mercato se c'è una richiesta da parte di un'altra squadra difficilmente subito viene diciamo come dire eh riempita fino all'orlo fino all'ultimo centesimo anzi è è normale il duo può trattare soprattutto magari anche attraverso bonus attraverso formule diverse eccetera eccetera con obiettivi lo sappiamo e quindi potrebbe essere anche questo il caso di il caso di Decateler insomma cioè sì sì la richiesta è 40 si partirà credo presumo da dalla fine dei venti quindi da ventotto ventinove per poi andare sempre più in su no potrebbe essere questa un'idea di trattativa naturalmente ancora non non sappiamo le cifre eccetera eccetera però ecco nel duemila e ventidue un Milan che la richiesta è 40 mette 40 non ce li vedo non ce lo vedo ecco no credo credo nessuno ci vedrà mai il Milan mettere i soldi della richiesta ma non tanto perché non sia giusto farlo come abbiamo detto prima ma come abbiamo detto adesso invece diciamo che ci hanno abituato negli ultimi due tre anni a trattare a trattare parecchio a cercare di arrivare a quello che loro reputano in quel momento il prezzo giusto quindi per questo dicevo cioè per me si partirà dai ventotto ventinove per proprio come concetto di trattativa nel senso parti magari molto più basso per incontrarti nel mezzo giù di lì ecco quindi ci può stare anche perché comunque parliamo sempre di un ragazzo molto giovane che è anche alla sua prima vera stagione da da protagonista assolutamente perché ha fatto veramente una stagione incredibile ma sempre la prima di fatto vera è quindi cioè comunque molto molto verde ancora come ragazzo ecco lo andiamo a vedere velocemente appunto il profilo di di Decadeler le cifre diciamo che parano abbastanza per lui insomma i i numeri sono sono numeri importanti per essere un ragazzo di ventun anni appena compiuti tra l'altro compiuti da semplicemente tre mesi è un giocatore molto molto buono con grandissimo talento però è ovvio che il Milan avendo da fare tanto in questo mercato per paradosso quasi mi verrebbe da dire visto che comunque è riduce dal dalla vittoria del campionato però come ha detto Maldini se si vuole ambire un po' più su se si vuole fare un salto di qualità anche in Europa c'è da migliorare una squadra c'è da migliorarla dietro c'è da migliorarla in mezzo c'è da migliorarla davanti sugli esterni quindi c'è c'è tanto da fare e tanti giocatori da fare arrivare c'è tanto da fare lo sappiamo tra difensore da rimpolpare il centrocampo dopo la diudica sì la tre quarti eccetera eccetera quindi le cose da fare ci sono lo sappiamo queste settimane Simmo l'abbiamo sempre detto è decisiva per più per più motivi uno di questi anzi il primo di questi questo credo sia il secondo perché non riguarda direttamente noi il primo di questi è ovviamente quello delle firme dei dirigenti nella giornata nella più stretta giornata di oggi invece c'è questa decisione che arriva da Lille eh sì più che più che da Lille non so dove abbia sede il DNCG però questa è la decisione che si aspetta oggi ovvero capire se il DNCG promuove il piano di Letang cioè dell'amministratore delegato del del Lille fa passare quindi la sua linea e quindi fa passare quella linea che tante volte abbiamo detto ovvero di lasciare libero il mercato del Lille senza vincoli di date senza vincoli di bilanci quindi farlo partire definitivamente con appunto delle partenze definitive quindi quella di eh di Renato Sanchez nel caso quella poi di di Sven Botman c'è anche Selic vediamo se la Roma dovrebbe eh se è realmente interessata a lui ma insomma lo stesso Buraki il Mazz non non si sa se si possa restare insomma lille è un cantiere non aperto di più lo sappiamo quindi e altro paradosso Henry potrebbe quasi quasi arrivare prima Renato Sanchez a fare le visite a quel punto che Orighi sì sì perché sappiamo che Orighi anzi Orighi ehm ha avuto un piccolo problema fisico il Liverpool lo ha salutato ufficialmente sui suoi canali ma potrebbe arrivare di fatto quando scade quando si conclude il suo contratto quindi la fine la fine di giugno pochi giorni prima pochi giorni dopo insomma in soldoni in quella finestra lì Renato invece che se dovesse essere approvato il piano di Letang potrebbe arrivare maniera insomma molto molto rapidamente io non so se riusciremo addirittura entro questa settimana mi sembra un po' come dire tirata ottimistica come visione ecco mi piacerebbe significherebbe che ci stiamo muovendo molto rapidi però tra le firme dei dirigenti del Milan la decisione tra l'altro controllato a sede a Parigi stranamente del DSG eccetera eccetera magari andremo tra la fine di questa settimana ma magari più la prossima ecco per formalizzare il tutto chiudere il tutto detto ciò io sarei contento se riuscissimo chiudere tutto entro questa settimana fatto sta che ripeto per Renato Sanchez parliamo solo di tempi cioè parliamo veramente solo di tempi non di non di sì o no la risposta è sì Renato arriverà al mio l'ultima questione è legata alla prima pagina ancora ma non di gazzetta ma andiamo a vedere c'è questa quella del eh Corriere dello Sport sfida per Asensio Henry perché Maldini ha chiamato Ancelotti scattomila Juve sorpassata Marotta in settimana invece deve alzare l'operta per Di Bala così tanto per ricordarci che c'è anche Di Bala vabbè eh questo è quanto un nome che ritorna e secondo Corriere dello Sport sarebbe stato direttamente un contatto tra Maldini e Ancelotti un po' un po' tirata anche in questo caso però la domanda è questa alla fine Henry è l'uomo giusto allora sì cioè nel senso avercene di Asensio però io mi auguro che venga fatto anche tutto il resto cioè nel senso è sempre difficile come era come la domanda per me è origi l'uomo giusto potenzialmente sì perché potenzialmente un giocatore che ha giocato poco comunque i suoi gol li ha fatti se gioca di più potrebbe segnare di più esperienza internazionale eccetera e qui più o meno siamo dico sulla stessa lunghezza d'onda perché Asensio ha sicuramente fatto qualcosa in più ma quasi no? Cioè dipende dal resto del mercato abbiamo fatto di vedere se per prendere Asensio devi rinunciare a De Keteler ti fermi a centrocampo con Renato in attacco magari oltre Asensio non arriva niente in difesa per Asensio devi rinunciare a qualcosina allora ti dico non lo so se Asensio completa un mercato fatto di Origi de Keteler Renato Sanchez il difensore centrale e quant'altro allora sono molto più come dire molto più propenso a dirti che è un nome più che valido ecco come tipologia di giocatore a me non è che sia all'esterno inteso come esterno che mi piace di più io sono più su giocatori stile Adam Atraore che tra l'altro non so perché non facciamo un tentativo ma vabbè però indiscutibilmente le qualità non si chiacchierano non si discutono è un giocatore incredibile ripeto non la mia tipologia di esterno ma per il Milan di Pioli può far veramente veramente molto bene quindi per me è un super sì Harry chiudo io oggi con una domanda che fa capire se realmente stanno vedendo il video fino alla fine oppure no se ci fossero le possibilità economiche prendereste Marcello come vice Ternandes quindi scrivete sì o no prenderei Marcello sì prenderei Marcello no scrivete sì Marcello o no Marcello per dirci che avete visto il video fino in fondo altrimenti vi siete fermati ad e che te levo come al solito quindi credo che che sia la cosa che interessa qui di tutti in questo momento poi ragazzi sappiamo che non ci sia chissà cosa da dire ce lo scrivete ogni tanto nei commenti innanzitutto grazie a tutti i commenti tutti i like il supporto state guardando in tantissimi obbligo quest'anno con questo nuovo format sappiamo che ogni tanto alcuni episodi non è che ci sia troppo da dire però è anche il 13 di giugno siamo in attesa delle formalità di firme da una parte dall'altra di cose da una parte dall'altra credo che più magari verso luglio verso la fine di giugno luglio soprattutto entreremo più entreremo più nel vivo ci saranno più cose da raccontare da dire ci dispiace se ogni giorno tutte le mattine alle nove non abbiamo tre notizie inedite da riportare ecco Enri grazie grazie a te grazie a tutti e buona giornata ci ritroviamo tra pochi minuti ancora noi tra l'altro in chiamo milan e poi ci sarà lunch il talk e poi filo rosso nero e anche la stanza di bottoni con la mezz'oretta che è diventata oggi non più la stanza di bottoni legata alla partita tattica del weekend ma al racconto tattico di due o tre potenziali nuovi acquisti del milan grazie a tutti e a dopo